pronostico serie a 2023-2024 giornata numero 19 andremo a fare i nostri pronostici giornata numero 20 lo 19 vabbè sto fuso sto fuso giornata numero 20 pronostici serie a 2023-2024 giornata numero 20 se volete fate anche i vostri qui sotto nei commenti e reagite ai pronostici di settimana scorsa mi raccomando non fatevelo ripetere qui sotto i commenti non vi scordate pronostici di giornata nuova e reagite a quelli di giornata scorsa andiamo a reagire ai pronostici di serie a 2023-2024 giornata 19 allora Bologna Genua 1x presa Inter Verona 1 presa Frosinone Monza gol presa Lecce Cagliari x presa Sassuolo Fiorentina x2 sbagliata Empoli Milan 2 presa Utilese Lazio x2 presa Torino Napoli Under 4 e mezzo presa Saini Italia UE 2 presa Roma-Atalanta gol presa ne abbiamo prese 9 su 10 se non era per Sassuolo Fiorentina faceva una plane bello pulito pulito pronostici giornata nuova scorsa settimana 9 su 10 questa giornata vogliamo fare 10 su 10 partendo da Napoli-Saini Italia Napoli-Saini Italia siamo i primi a giocare insieme allo Genua i primi speriamo che triconfino ci serve una vittoria però io mi confermo sugli standard di queste giornate sia Napoli che Saini Italia non fanno tantissimi gol quindi metto un Under 4 e mezzo secondo me in questa gara ci saranno meno o pari a 4 gol Genua-Torino 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 il Torino viene da una vittoria è gasante per 3-0 contro i campioni d'Italia nel Napoli il Genua può vantare il fattore casa io vi dico che un golletto entrambe lo segnano quindi gol Verona-Empoli Verona-Empoli io qui mi giocherei la giocata dell'X quindi una partita equilibrata dove le due squadre non rischiano troppo non lo sanno troppo e alla fine finisce con un bel parizzo 0-0 1-1 Monza-Inter trasferta molto difficile per l'Inter molto molto difficile nel campo di Monza ci hanno vinto in poche e soprattutto ci hanno faticato in tante quindi dico X2 l'Inter che soffre ma riesce a prevalere però mi voglio parare con la doppia scelta mi raccomando 3 doppie per ogni giornata Lazio-Lecce 1 in tutto il rispetto del Lecce ragazzi però la Lazio è più in forma e vincerà Cagliari-Bologna Cagliari-Bologna mi gioco che mi gioco qua Cagliari può vantare il fattore casa e deve guadagnare punti il Bologna lo stesso se volete entrare per la zona Champions League X2 va seconda doppia X2 a Cagliari non è mai facile il Bologna o vince o parigia ma comunque secondo me soffrirà Fiorentino-Dinese 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 è tosta molto tosta Fiorentino-Dinese 1X 1X vedo una gara che qui molto molto combattuta azione da una parte e dall'altra la Fiorentina o vince o parigia terza doppia quindi non ne possiamo usare più Milan-Roma gara delle 20.45 il big match della domenica questa non è scontata allora io vi dico che qualcosa di bello ne esce fuori due squadre che attaccano due squadre che secondo me almeno un gol di Stagano fanno Milan-Roma gol un gol per Edram Atalanta-Frosinone 1 Juventus-Tassuolo 1 ragazzi questi sono i miei pronuncici per quanto riguarda la giornata 20 seriato per la 24 quasi vicino alla play di scorsa giornata speriamo di replicare facendo 10 su 10 ciao ragazzi ecco 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 ecco